Noi andiamo in guerra. Così annienteremo tutto. I campioni di questo reame non possono fermarci. Hai un'aria molto minacciosa ed è giusto che tu lo sappia. Molto è cambiato in questi ultimi anni. Un mago mi ha dato i superpoteri. E poi tutti avevano i superpoteri. Risolviamo la situazione. Le figlie di Atlante stanno venendo a darci la caccia. Dei bambini hanno rubato il potere degli dei. Tu lo strappasti a nostro padre. Ok, dovrei prendere qualche appunto. Che dici? Dacci i poteri, ragazzo. E il tuo mondo non sopravviverà. Vuoi i poteri? Vieni a prendermi! Ehi, Khaleesi! Coraggio! Abbiamo un compito. Salvare il mondo. Billy! No! Andy! Non so come combattere poteri così. Io posso farcela. Riprendi i miei poteri. Come me li hai dati, te li puoi riprendere. Ho passato millenni. In cerca di un degno campione. Tu sai esattamente ciò che va fatto. Billy, chi ha in mente? Lo devo fare. Finiamola adesso! Sì, concordo. Chi da? Sì, concordo. Non lo so! No, non lo so. Sono così. Non lo so. Chazam!